Musica Ben ritrovati a Pausa Caffè, l'ospite di oggi è Pietro Daniello, presidente della Proloco di Olevano sul Tusciano. Salve! Buon poveriggio! Allora, andiamo un attimo oltre i confini di Olevano sul Tusciano perché voglio parlare di una novità che riguarda il coordinamento delle Proloco Picentine. So che a breve diventerà un consorzio a tutti gli effetti, giusto? Sì, allora stiamo studiando un attimino come cambiare la formula. Con Vicenza Turismo siamo usciti fuori sul territorio, tutti insieme alle 10 Proloco Picentine e questa è stata una cosa bellissima per noi perché diciamo che siamo stati un primo esempio in Campania di associazioni tra Proloco che è riuscita ad avere dei successi. Però ci siamo anche resi conto che la formula è particolare per cui non possiamo accedere a molte possibilità, a molti fondi che sono a disposizione della Regione Campania e dell'Europa. Allora vogliamo cambiare questa formula per cui da Vicenza Turismo, quindi coordinamento di Proloco, ci trasformeremo in consorzio. Io ora sono il presidente del coordinamento delle Proloco, accompagnerò questo passaggio fino alla creazione del consorzio, dopodiché ci sarà un nuovo presidente tra i nove che sono oggi presidenti delle Proloco, tranne me che non parteciperò a questa elezione, sono stato presidente per troppo tempo. Però a parte questo ci sarà anche, c'è un'altra grande novità. Oltre a questo consorzio stiamo tentando di crearne un altro, un altro che comprende 10 Proloco Picentine più le Proloco dall'altra parte Ovest, Mercato Sensevedino, Calvanico, Fisciano, più Eboli, Battipaglia, Campania. Quindi diciamo che ci stiamo organizzando bene proprio per poter accedere a quei fondi che fino ad oggi non sono stati possibili prendere, intercettare. Quindi Proloco che crescono anche a livello provinciale. Sì, le Proloco sono cresciute a livello nazionale, lo sappiamo tutto, ormai sono delle associazioni di promozione turistica che pian piano sostituiranno anche l'ente provinciale del turismo, acquistano importanza in ogni comune, ma crescono anche a livello provinciale perché sono organizzate nell'UMPLI provinciale con un presidente che funziona, un direttivo che va benissimo, ma poi nei diversi comprensori della provincia si stanno organizzando per fare bene. Io penso che ci saranno dei successi in futuro. Ecco, andiamo ad Olevano sul Tusciano, la Proloco è il reduce del Carnevale dei Poveri, lo scorso dicembre i mercatini di Natale, una serie di iniziative ed una Proloco che cresce. Sì, la Proloco di Olevano cresce, c'è stata in passato, perché questo poi è il segreto del successo, la collaborazione con l'idea pubblica e comune, questa collaborazione non c'è più, siamo in campagna elettorale, i nostri politici ritengono di non collaborare più con noi. Però nonostante tutto siamo riusciti a fare dei mercatini di Natale a Monticelli, abbiamo collaborato sicuramente al successo del Carnevale dei Poveri di Olevano, perché noi pensiamo che il Carnevale dei Poveri di Olevano è una cosa importante da lanciare, perché potrebbe richiamare molto turismo. Questa manifestazione l'organizza precisamente il Club Eureka. Ora siamo impegnati per stimolare la crescita di un'altra associazione, che è l'Archeoclub d'Italia, e hanno aderito già una cinquantina di professionisti, la cosa è molto piacevole. E tra le prime attività da lanciare, insieme, Proloco e Archeoclub d'Italia, ci sta la presentazione di un libro che abbiamo pubblicato in questo giorno, in questi giorni, si chiama Parole in soffitta, di Gabriella Cestar. Questo libro raccoglie un pochettino le parole in disuso, le parole dialettali in disuso e moltissimi detti proverbi, è molto simpatico proprio da leggere, quindi lo presenteremo il 3 marzo. Dopodiché ci sarà un'altra pubblicazione sulla Bagliva, che è una manifestazione culturale che noi facciamo, ma è una grande storia, riprende la storia di Olevano. Siamo già pronti, penso che fra una settimana andremo in stampa anche con quello. Ecco, quindi le attività sono in stretto rapporto con il territorio? Sì, allora tutto ciò che noi facciamo è sempre un tentativo di rivalutazione di ciò che è stata la storia, di ciò che sono state le nostre caratteristiche peculiari, sia di Olevano che di Vicentini, perché noi ragioniamo sempre in termini di Vicentini e chiaramente ci proiettiamo nel futuro. Ad esempio la Bagliva è un tentativo di lanciare i prodotti tipici, con degustazioni, ma anche l'evocazione della storia la faremo in estate. Il brigantaggio, il brigantaggio è stato una grande cosa, Dolevano sul Tusciano, abbiamo iniziato per scherzo, poi è diventato una manifestazione con tanta personaggi, la facciamo in collina, all'aperto, di fronte alla crotta di San Michele, alle falde del castello, ed è una manifestazione che richiamano infinità di gente. Quindi è anche una promozione per il territorio, un richiamare turisti? Le prologo devono richiamare, nelle loro peculiarità, nelle loro caratteristiche, devono richiamare turisti, devono fare del tutto per richiamare turismo, perché il turismo è economia e quando l'economia manca si blocca tutto. Noi vogliamo contribuire alla crescita economica attraverso queste manifestazioni, queste attività. Ecco, quali sono le difficoltà con cui deve fare i conti la prologo di Olevano? Non solo a livello territoriale, ma anche difficoltà economiche, perché credo che la crisi si fa sentire anche in questo ambiente. Io ti devo dire la verità, la prologo di Olevano è ricca e non ti dico altro, quindi non ha difficoltà economica, è l'unica associazione forse in provincia di Salerno che si trova in questa situazione. La nostra difficoltà è il comune di Olevano sul Tusciano, perché il sindaco è giunta, si sono chiusi, si sono arroccati, non vogliono collaborare, non vogliono dare spazio, non vogliono far fare le cose. Sono contenti che le cose non si facciano, pur di non vedere altri forze che abbiano successo. La situazione in questo momento è questa, ma noi la supereremo lo stesso e ogni manifestazione che facciamo, per ogni manifestazione vi ha una lettera al sindaco, lo invitiamo, lo invitiamo a dare il patroci, se non ce lo dà peggio per lui, tanto la facciamo lo stesso. Qual è il rapporto della prologo con gli altri enti, le altre associazioni del territorio, non solo di Olevano, ma anche dei Picentini? Allora il nostro problema, ti ripeto, è l'ente comune Olevano sul Tusciano, noi abbiamo degli ottimi rapporti con tutti gli altri comuni, con il comune di Giffoni in primis, con il sindaco c'è un buonissimo rapporto, infatti stiamo già tentando di fare delle cose insieme, con il sindaco di Eboli, con il sindaco di Battivaglia, con diversi altri sindaci, per cui si collabora. Tutto ciò che il nostro sindaco non ci vuole far fare, poi noi abbiamo l'appoggio degli altri, quindi lo scavalchiamo in questo modo, e con le altre associazioni ad Olevano si fila benissimo, cioè le altre associazioni non prescindono da noi, noi non prescindiamo da loro, facciamo tutti insieme, non c'è concorrenza tra nessuno, vogliamo far crescere il paese. E la stessa cosa accade con le associazioni dei comuni picentini, si collabora, perché il paese può crescere, ma cresce solo se inseriti in un territorio più ampio, ad ampio respiro. Se si ci chiude e si ci arrocca in un paese piccolo, non si va da nessuna parte, e questo d'altra parte è una delle cose che ho contestato sempre al Giffoni Film Festival in passato, ora non più, ma a volte mi sono arrabbiato perché lo vedevo troppo chiuso a Giffoni e dava poche possibilità, poco spazio di crescere agli altri comuni. Personalmente quando ti sei avvicinato al mondo dell'associazionismo? Quando ho preso coscienza di esistere, da sempre. Da sempre? Da sempre, sì. Questa provvenzione come mai? Io amo vivere con gli altri, sempre, comunque. Mi piacerebbe sempre avere una casa piena di gente per discutere, per programmare delle cose. Sai, amo viaggiare, viaggio in continuazione, mi piace la lettura, mi piace vivere. La vita è fare le cose insieme agli altri. Io non credo nella solitudine, nella persona che può fare da sé tutto. Tutte le mie cose devono essere fatte con gli altri. So che lei ha viaggiato tantissimo. Eh sì. Ho viaggiato tantissimo e viaggio ancora. Cioè io voglio conoscere il mondo. Non mi piace essere impacchettato, come poi io faccio attraverso dei viaggi che ho organizzato per gli altri. Però non mi piace essere impacchettato. Voglio conoscere, voglio vivere, voglio approfondire. Voglio conoscere la gente del posto dove vado. Ma prima di andarci, prima di conoscere la gente che vive ora, io leggo tutto ciò che riguarda la letteratura. E quando parlo di letteratura, non parlo di letteratura geografica, ma la letteratura come momento di antropologia, di cultura. Cioè se vado in Perù mi leggo Iosa, se vado in Brasile mi leggo Amado, se vado in Repubblica Cieca mi leggo Caffi e Condera. Ecco, spesso chi ha la passione di viaggiare, chi viaggia molto, poi non è che sta stretta una realtà come olivano sul Tusciano? Ma no, perché io vivo in prospettiva del viaggio, del prossimo viaggio. Progetti futuri per quanto riguarda la Proloco? Allora, per quanto riguarda la Proloco, lavorare sempre insieme. La pubblicazione di quell'altro libro, un approfondimento ancora di altri termini dialettari, ne è pronto anche un altro. La pubblicazione di un libro sulla processione di San Michele, che è un altro momento importante di Olevano. Una pubblicazione sul culto michaelico. Poi, come abbiamo detto, la Bagliva, il Brigantaccio. E poi Dolce Poesia, non avevo dimenticato Dolce Poesia, è una manifestazione che è nata ad Olevano tre anni fa. Abbiamo fatto la prima edizione e questa manifestazione consiste in un concorso di dolci e lettura di poesie dei poeti locali del paese dove si organizza. Poi dopo abbiamo pensato di allargarla. E quest'anno siamo riusciti a farla già ad Eboli, Battipaglia e a Cava. Abbiamo cominciato dalle grandi città, ma poi andremo nei piccoli comuni. Cioè una manifestazione che parte da Olevano, gira un pochettino la provincia e il tentativo è quello di promuovere attraverso i dolci i prodotti tipici. Ad esempio, chi vince questo concorso? La Massaica riesce ad utilizzare di più prodotti particolari nostri. Cioè se si usa la nocciola di Ciffoni o se si usa il limone della costiera, più punti. Se non si usano queste cose qua, hanno meno punti. Per cui sono costrette ad utilizzare i nostri prodotti. Sì, sempre promozione e territorio. Più o meno quante persone sono coinvolte nelle vostre attività? C'è un'apertura nei confronti delle nuove generazioni? Sì, vedi, l'Archeoclub è nata per questo. È nata perché la Proloco di Olevano era un po' invecchiata. Diciamo che col passare del tempo, dopo dieci anni, siamo invecchiati tutti quanti. C'era bisogno di una rigenerazione. Però a volte è anche difficile il dialogo subito, improvviso, tra le generazioni. Allora abbiamo costruito un'altra associazione, per cui ora il dialogo è lento, ma deve tendere a diventare sempre più ampio, fino a quando questi nuovi non saranno loro a gestire la Proloco. Quindi con il vincimento delle nuove generazioni, ma bisogna sempre programmare, utilizzare delle strategie, studiare delle strategie, altrimenti si crea un distacco e magari le associazioni invecchiano e poi finiscono. Questo dobbiamo evitare. Ecco, quindi io in conclusione ti voglio chiedere, la Proloco di Olevano può essere un'opportunità per il territorio, soprattutto per i giovani, può creare futuro ad Olevano? Sì, la Proloco può creare futuro ad Olevano. Se la Proloco continua e riesce ad organizzare attività, manifestazioni, eventi, che creino i presupposti per lo sviluppo del territorio, riescono a richiamare turismo, si fanno conoscere prodotti tipi. Cioè se la Proloco riesce a fare economia, a contribuire insieme ad atti alla crescita dell'economia, allora ci saranno delle opportunità per i giovani. Dobbiamo lavorare per questo. Per questo dobbiamo creare il consorzio che deve andare al di là di Vicenza Turismo, per questo dobbiamo creare anche un consorzio che vada al di là di Vicenza Turismo e del consorzio stesso, allargandosi a Battipaglia, Eboli e alle altre città dei paesi, dei comuni vicentini. Bene, io ringrazio Pietro Daniello per essere stato con noi, buon lavoro e ci vediamo la settimana prossima di nuovo con Pausa Caffè. Grazie. Grazie a tutti.